Parliamo inevitabilmente di contagi e di scuola. Vi abbiamo rendi contato nelle scorse ore il continuo avanzare purtroppo di casi Covid. Il tema della scuola è assolutamente delicato. Questa mattina ci troviamo davanti all'Istituto Marconi, come vediamo assolutamente ristrutturato, ma il tema al centro adesso è un altro. Assessore, bisogna cercare di contenere i contagi, è così? Sì, buongiorno a tutti. Effettivamente il problema maggiore è quello di contenere i contagi e in questi giorni si vedrà poi la percentuale dell'infezione durante la scuola perché magari i ragazzi che erano comunque positivi o erano assenti al primo suono della campanella dopo le vacanze natalizie dipendono ancora dai contagi avuti durante le vacanze. Certo è che bisogna la scuola in questo momento, va monitorata tutti i santi giorni e cercare tutti insieme di trovare le soluzioni per poter garantire la didattica in presenza. Si è già parlato, io ho avuto modo di parlare con entrambi, con i tre dirigenti scolastici per un discorso di purtroppo del distanziamento in special modo durante le mense. Primariamente noi cerchiamo di tutelare la sicurezza dei ragazzi. Qualora questa sicurezza viene a meno perché quando, specialmente nelle primarie di secondo grado, abbiamo il contatto stretto che deve venire con l'FP2 ma deve stare a due metri di distanza e quant'altro, certo è che se in una classe mi trovo quattro ragazzi con il contatto stretto non posso prendere un'aula per la mensa solamente per quattro ragazzi. In queste ore è uscita la notizia chiusura di tutte le mense, è così o non è così? No, non è così. Tanto parliamo per quanto riguarda il primo ciclo, ci sono le scuole che hanno il tempo pieno e quindi non è fattibile farlo. Ci sono stati fatti dei lavori di ampliamento e sono stati depositati questi container che andranno a sopperire e aiutare laddove mancano gli spazi. Si valuta, si valuteranno in queste ore, in queste giornate perché stamattina farò il giro delle tre presidenze e in più ci incontreremo in assessorato con i tre dirigenti proprio per capire come affrontare questa tematica. Vedremo insomma come si evolverà la situazione. Intanto per le famiglie che magari sono un po' in allarme sulla questione delle mense è tutto ancora in divenire. Sì, io vorrei tranquillizzare tutti quanti perché poi la stampa, il giornale, non me ne abbia Katia, a volte dal titolo sembra che è già tutto deciso, è già tutto fatto. In realtà noi stiamo monitorando proprio per questa ragione esclusivamente per tutelare l'integrità dei ragazzi a livello sanitario ma anche cercare di non andare in DAD. Quindi tranquillizziamo tutti quanti che per ora è solamente un'ipotesi che possiamo valutare solo fra qualche giorno. Quindi io mi auguro che non serva questo intervento ma qualora dovesse servire per tutelare i ragazzi si farà un po' di sacrificio per alcuni giorni. Comunque speriamo e auguriamoci tutti che non serva questo intervento.